Ciao a tutti bambini e benvenuti nel nostro nuovo video. Oggi faremo una fantastica avventura nella giungla, ma attenzione! Ma mamma mia ha detto ciao a tutti! Dillo, dillo al bimbi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Attenzione bimbi, perché nella nostra avventura dobbiamo stare attenti ad un pericolo. Scelta! Dobbiamo imparare a muoverci e a camminare come gli animali della giungla, così lui non si accorge della nostra presenza. Mi raccomando, dobbiamo camuffarci! Andiamo nella giungla come ci ha insegnato Balù. Muoviamoci come gli orsi. Ritorniamo al villaggio. Torniamo nella giungla come dei felini, silenziosi come Baghera la Pantera. Oh, che ridicolaci! Quanti farfugliamenti sciocchi! Ritorniamo al villaggio. Sì, è bello, è bello. Adesso andiamo scimmiottando come quel mattacchione di Re Luigi. Io sono qui nella giungla ormai, è una personalità. Forza! Bravi! Torniamo? Adesso sprisciamo serpeggianti come Cà. Cosa c'è qui? Un cucciolo d'uomo? Vai! Giù lunghi! Buongiorik! Buongiorik! Buongiorai! Buongiorik! Buongiorik! No, buongiorik! Andiamo! Buongiorik! Grazie! Ciao a tutti bambini È stato fantastico Siete stati bravissimi Cerca non si è assolutamente accorto di voi Allora mi raccomando Iscrivetevi al canale Allenamento in famiglia Per seguire la prossima Fantastoria motoria Mi raccomando Condividete il video Se vi è piaciuto Metteteci un bel Mi piace E potete seguirci anche su Facebook E su Instagram Mi raccomando Un bacione Iscrivetevi al canale Grazie a tutti